Va avanti la battaglia contro la centrale SNAM di Sulmona. La società per azioni intende costruire una centrale a spinta e compressione relativo a metanodotto in località Casapente, sulla famigerata Faglia del Morrone ai piedi della Maiella, dove vivono diverse specie protette. Benché il progetto vada avanti dritto per la sua strada e benché ogni ricorso sia stato finora respinto, le associazioni ambientaliste e i cittadini di Sulmona non si arrendono e chiedono una nuova valutazione di impatto ambientale che tenga conto anche dei danni al territorio e a chi lo vive. Ci sono tanti orsi che hanno frequentato l'area negli ultimi anni, ci sono due branchi di lupi, ci sono anche altre tante altre specie protette a livello addirittura comunitario. Ora, nelle conclusioni, peraltro il parco sottolinea che non è stato neanche coinvolto a suo tempo quando è stata fatta la valutazione di impatto ambientale, nove anni fa addirittura, nel 2011, e sottolinea che questi dati non sono stati neanche presi in considerazione, quindi a zera sostanzialmente l'attendibilità della procedura di valutazione di impatto ambientale, che è peraltro una procedura fatta ormai dieci anni fa, vecchia, appunto fatta in maniera ormai, lo possiamo dire, superficiale e inattendibile. Secondo uno scenario dell'Unione Europea, inoltre l'offerta del gas supererebbe la domanda, anche alla luce dei cambiamenti climatici e la conseguente riduzione dei consumi. L'opera così sembrerebbe inutile, pericolosa e impattante, e per questo gli abitanti della zona, seguiti da Comune di Sulmona e Regione Abruzzo, si sono sempre schierati contro il metanodotto. I governi che si sono susseguiti, però, si sono sempre schierati al fianco di SNAM e ogni via istituzionale intrapresa finora non ha minimamente scalfito il progetto. In questi dodici anni, da quando noi abbiamo iniziato la battaglia, c'è stata tutta l'alternanza dei vari governi e dei vari schieramenti e purtroppo l'atteggiamento è stato sempre quello di schierarsi dalla parte dei poteri forti e non di ascoltare la voce dei cittadini e delle istituzioni che insieme ai cittadini si sono opposti e si oppongono alla realizzazione di questo progetto. Diciamo che in maniera anomala è il potere forte economico che detta la gente ai rappresentanti, ai nostri politici e ai vari governi.